Dietro ogni foto c'è una ricerca, c'è un lavoro, ci sono ore di lavoro per realizzarla sia inclusivamente ma anche le didascalie e come sono state esposte. C'è dietro un nostro ragionamento, un grande lavoro che secondo me è stato enorme e per cui spero vi piaccia. Si è proiettati tante volte nel futuro ma ci si dimentica nel conservare, nel conoscere soprattutto e conservare in modo tale che le nostre radici possano essere di aiuto per pensare e vivere il domani per noi ma anche per i nostri figli. Per cui l'idea di una piattaforma digitale per conservare dal punto di vista informatica digitale e poi tutta la documentazione, la realizzazione di un museo che ci consenta di raccontare Valigio e la sua storia, il giacimento su cui siamo, raccontarlo a noi, ai nostri figli e anche a chi ci viene a visitare, a trovare.